iMacfavo offre la possibilità a sei giovani, si legge in una nota della struttura sanitaria di contrata Tappino, di svolgere servizio civile presso il punto di accoglienza e informazione al Responsible Research Hospital di Campobasso. In virtù di una convenzione stipulata con l'ospedale, l'associazione ha attivato questo servizio che vede come principali protagonisti i ragazzi tra i 18 e i 28 anni, che potranno partecipare al progetto inoltrando domande tramite la piattaforma www.domandeonline.serviziocivile.it Il servizio civile dura 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì per 5 ore al giorno e un rimborso mensile di 507,33 euro. La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 15 febbraio 2024, alle ore 14.